Secondo la mia opinione di un psichiatra criminale, John Forster è un serial killer psicopatica. Un caso che sembrava chiuso. Si rende conto che il dovere del mio ufficio è di assicurarsi che un innocente non venga giustiziato stanotte? Il dubbio. Chi è l'assassino? Chi è l'assassino adesso? Il sospetto. Nel suo appartamento hanno trovato delle prove che ti compromettono. La vendetta che scorre sul filo del tempo. La resta di 88 minuti di vita. Sa quanto sono i miei 88 minuti, vero? Al Pacino. 88 minuti. Domenica alle 21. Su Rai Movie. Canale 24. Grazie.